Questo Cosmobike soddisfa il nostro sorriso perché ha rispettato pienamente le nostre aspettative con quello che è l'affluenza del pubblico numerosa e non solo di pubblico ma anche degli addetti del settore e quindi i nostri rivenditori sono tornati a salutarci dopo anche altre evidenze e con soddisfazione hanno nuovamente apprezzato l'intera gamma che è stata esposta in questa location. Il nostro prodotto di punta quest'anno riconferma la Myron con un allestimento Sonic dove vede un nuovo telaio Superlight e soprattutto una componentistica che riguarda Forcella, Gruppo e ruote in carbonio con un peso ai vertici della leggerezza nella gamma pronte carbonio XC. Associato anche all'esecuzione full sempre con un telaio in carbonio anche questo rivisto per ridurre il peso con la stessa tipologia di componenti che lo pone ai vertici di quello che sono il rapporto peso-qualità-prezzo con tanti altri competitor che comunque sono purtroppo assenti in questa manifestazione con il nostro dispiacere e con la nostra soddisfazione per quello che poi è la risposta che abbiamo avuto come affluenza al nostro stand e in tutta questa manifestazione.